All'inizio, era tutto normale. Piacere, Jacopo. Piacere, Roberta. Poi... Allora... siamo insieme? Beh, perché è andato a qui, sì. Ci amo! Qualcosa è cambiato. Ah, Jay, stasera mega torneo a FIFA da me. Ci sei? Non posso, Danny. Sono con Roberta. Jacopo ha saltato il torneo a FIFA. È la prima volta. Danny, lei ha un'arma potentissima che tu non avrai mai. E sarebbe... Ravaccino! Preparati. Amore, ti penso così tanto che ho fatto un tuo rifatto. Ti piace? A nulla bene. Danny, ho bisogno di te. Più scatto. Amore, che cosa ci facevi con essere le 4 e 28 su WhatsApp? Ma no, niente, amore. Stavo guardando... Cosa? Un'altra? No, non un'altra. Non sono il tipo... Che cazzo è, Lisa? Ma no, amore. Era mia cuginetta, quella di 15 anni. Non ti ricordi? Ah, meno male. Sai, non vorrei perdere tempo a scavare una fossa. La tua. Benvenuto... All'inferno. Ciao, Lisa. Ciao, e tu saresti? Lisa, ora ti farò una domanda. Dimmi, lo sai chi è Jacopo? Come? Chi è Jacopo? È mio cugino. Che c'è, amore? No, no, niente, sono preoccupato perché Lisa non mi risponde più i messaggi da un sacco di giorni. Oh, che peccato. Si sarà preso una vacanza. Ma no, è impossibile, levo a scola ogni giorno come fa bello sera. Una lunga vacanza. È il mio ragazzo. Troia! Non c'è modo... Aietto, 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 aietto! ...di scompencerla. Aietto, 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 aietto! Puoi solo. Aietto, aietto, aietto! Affrontarla. È finita! Porca di quella troia, è finita! Fin-i-ta! Oh no, moruccio. Non è finita. È solo cominciata. Cosa? La nostra storia. Finché è morte, non ci si pari. Tre vinciti, abusi, miei cimenti. Tre vinciti, abusi, miei cimenti. Senti, abusi, miei cimenti. Senti, abusi, di con cui si pari. La psicopata. Non ci si pari. La fine del anime è instante. Senti. Senti. Sì, 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 sì.